Nel comune di Cossato, frazione Ronco, in zona collinare e panoramica, accomoda tutte le principali vie di comunicazione, proponiamo in vendita casa indipendente su due livelli, ideale anche come bifamiliare, con giardino privato recintato di 600 metri quadrati. Di pertinenza cantina sfruttabile come taverna di 100 metri quadrati, sottotetto di 75 metri quadrati, posto auto di proprietà recintato nell'interno cortile. La proprietà è, in buono stato di manutenzione, si vede composta al piano terra da cucina di ampie dimensioni modernamente arredata, generoso e luminoso soggiorno con volte a mattoni e vista e servizio del piano. Grazie! Grazie! Al piano superiore troviamo le tre camere da letto corredate da terrazzo e balcone e un bagno finestrato con doccia Infissi in PVC con doppio vetro Sobrei spie much louder than all my fears Sometimes I just wanna disappear Running until I can feel you near I need a new purpose I'm looking for so much more Don't leave me here searching Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail siamo sempre a tua disposizione